Oggi il Presidente del Consiglio è ingiustamente attaccato per la relazione con pubblici ministeri che dura dal giornale del 2010. Pensate che il funzionario della Questura ha avuto rapporti con me, ma per l'ennesima volta non c'è stato nulla di cui mi debba vergognare. Sappiate, io nella mia casa da sempre svolgo una serie di violazioni impressionanti. Ho avuto 389 rapporti sessuali con pubblici ministeri che entravano, che uscivano, che entravano, che uscivano, che entravano, che uscivano, con grande e voluto clamore. Tutto questo potrebbe capitare a chiunque di voi. Io vorrei andare immediatamente dai giudici di avere rapporti sessuali dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera senza mangiare, senza poter avere alcun contatto con l'esterno. Ripeto, io vorrei andare subito dai giudici di avere rapporti sessuali, ma lo vorrei fare con giudici super partes italiani e stranieri. Una procedura, dovete convenirne, che non può rimanere convertita al cattolicesimo. Comunque, io resto sereno. State sereni anche voi, perché il dirigente della questura è assolutamente ridicolo. Ma è altrettanto assurdo, non l'orevole Silvio Berlusconi. Grazie.